Il Santatresimo Trento Film Festival, un caro saluto dalla Chiesa Trentina, dall'Arcidiocesi che lascia questo parco per l'ennesima volta a disposizione, rappresentata dal nostro Monsignor Giuseppe Grosselli che è la massima autorità in materia su questo tema, grazie alla città rappresentata dal nostro sindaco, grazie a tutte le realtà che collaborano con Trento Film Festival di cui ora sentiremo il Presidente. Non vorrei come sempre dimenticare nessuno però siamo a Vita Trentina, a Radio Trentino in Blu che ci diffonde in diretta in tutto il Trentino e forse anche in tutto il mondo grazie allo streaming, abbiamo le altre tre punte di diamante ormai fedeli da più di 10 anni, 11, il Museo degli Usi e Costumi di San Michele all'Adige, il WWF, volontari del Trentino Alto Adige e il Museo delle Scienze che in questi giorni probabilmente trasloca dalla bella sede delle albere qui nel parco dei mestieri. Bene, cari ragazzi Salvanelli siete pronti? Questo parco è aperto da 11 anni, il festival invece è il più famoso d'Italia e uno dei più famosi del mondo, ha ben 63 anni. Ciao, ciao, buon rientro! Ciao, buon rientro! Ciao, buon rientro! Ciao, buon rientro! Ciao, buon rientro!